Questa sera al Palazzetto dello Sport sarà un Blue Day, ci spieghi un po' di che cosa si tratta? Sì, il 2 aprile è la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo e quindi in tutto il mondo si accendono delle luci blu, il blu è il colore dell'autismo si sventolano bandiere blu, si mettono drappi blu dovunque, ci sono diversi monumenti che vengono drappeggiati di blu o illuminati Noi questa sera partecipiamo a una iniziativa che è stata avviata da un'associazione di Pistoia l'autismo Apuania, che cosa ha fatto questa associazione? Ci ha contattati tutte le associazioni che hanno una squadra di basket in Serie A Quindi sarete ospiti della Scandone all'occasione della gara con Baris Sì, saremo ospiti della Scandone e in tutta Italia tutte le associazioni porteranno lo stesso striscione con i loghi di tutte le associazioni che partecipano e daranno agli spettatori, a chi vorrà, il braccialetto blu del Blue Day Io spero che sia una cosa bella, mi auguro che la gente ci sia vicina E niente, a stasera Un momento per sensibilizzare la gente sul tema dell'autismo, Migrangelo Varretti ma anche sempre per tenere le luci accese sul centro per l'autismo di Valle Certamente, la prima cosa, Massimo mi scuserà, però ti dobbiamo dare Lo dai a me Perché aderisci sicuramente? Assolutamente sì, senza dubbio Sei una di noi Ecco, sei una di noi E il centro di Valle, è opportuno dirlo perché questa iniziativa di Avellino ha un significato particolare Quello che ha detto lì è tutto giusto Però noi abbiamo un punto in più, cioè abbiamo il centro di Valle E allora questa manifestazione è sociale e sportiva Non è sportiva e sociale E quindi noi tutti diciamo, venite stasera al palazzetto Quando i giocatori avranno, entreranno in campo con questo Poi sai che faranno? Poiché non possono tenerlo durante la gara Lo prendono e lo buttano sugli spalti Quindi indossiamolo tutti Indossiamolo tutti, questo è il principio